ciao aiu è appena arrivato il ruretto è un atom che aspettavo da un po di tempo ora lo vado subito a scartare stappiamo ah è proprio bello esteticamente bellissimo ho scelto questo qua scuro perché ha la campana in metallo e quindi è ottimo per i tabacchi invece la versione chiara è più per i cremusi ma a breve vi faccio sapere come va ciao aiu